Quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso Un anno è passato ma la commozione resta Se le ceneri di Pino Daniele che furono esposte al maschio angioino riposano da qualche giorno in Toscana Napoli, dopo la straordinaria onda di affetto popolare, non smette di ricordare Napoli è non solo la mare Oggi sotto un cielo grigio il Pino Daniele Day con i tour nei luoghi cari all'artista Per ancolare parole note alla parabola della sua vita Mostre, flash mob e poi le canzoni diffuse in tutta la città In attesa di un'installazione museale permanente Un concentrato di omaggi che si aggiunge alla lunga e interrotta catena da parte dei colleghi Da giovanotti che sui social posta questo video tratto dal concerto Mangio insieme a Ramazzotti e James Senese, Pino e Negramaro Rarità ritrovate, racconti e note a ricordare la lezione di Pino stasera anche in Rai 2 Alle 23 non dallo speciale unici racconto televisivo dedicato alla storia del mascalzone latino Rarità ritrovate, racconti e anunciare l'artista Grazie a tutti